Ciao a tutti e bentornati sul canale con un nuovo video. In questo episodio siamo nuovamente sulla bellissima spiaggia di Torre San Giovanni. Soltanto una cosa in più rispetto alle altre volte. Abbiamo degli ospiti d'eccezione, e cioè dei ragazzi che fanno le loro evoluzioni con i kite surf in queste acque veramente, veramente molto belle. In questo video vedrete tantissimi colori. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel pollice in su, un bel like e magari scrivete nei commenti se avete bisogno di una qualsiasi informazione. Sarò comunque felice di rispondere a tutti i vostri commenti e email che in tantissimi mi mandate spesso. Vi auguro una buona visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.